Vai, io sono qui da facciare la... Falta, se volete, falta, se volete... Ah, ce c'è il... Altre, sì, come potete dire, poi se la prima volta non c'è di... qualche semana va adesso. Ma è la prima volta che c'è di... minaccia del grande segretario, per la prima volta che c'è di... 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 sia a G, sia a G, perché... tre volte va bene, se non c'è... e che c'è... quando non c'è la prima volta che c'è... ah, non c'è la prima volta che c'è di... come potete... Alla prossima volta... Ah, bien... Quindi...